per la trasmissione play life buongiorno sono Talon no sono Pet House vuoi provare? ragazzi non mi cagare nel villino ah il villino? nel rustico è vent'anni luca non mi cagare nel rustico per favore ragazzi l'ha roulotte ha preso poco tempo a dietro ha preso poco ciao luca quando riprendi a correre ma il luca non l'ha riprendata mai riprende riprende oh bambina è natura è nata dai su Roberto non calma per favore ragazzo non è il momento chi è che corre nel mondiale con la PM? è nata eh? grazie 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 luca va ciao com'è? com'è? è diventa la loma? dai che stanno davanti è cibuto il prossimo stanzi è davvero tutt'altra parte dovevi ammettere un piove è eh he he ecco unanko ultimo dai dai come siete? Allora il primo giro è di prova, attenzione perché è liposissimo, quindi il primo giro fatelo pienissimo per controllare soltanto il terreno, dietro a Daniele e non lo dovete sorpassare, non lo dovete superare, poi voglio sapere se qualcuno aveva qualche dubbio di come funzionasse, chi non l'ha mai fatto e voleva fare qualche domanda. Che la base carri ufficiale, il campionato Indy, stanno arrivando mondo, ragazzi 3 ti arrivano E va bene, non è che perché dove arrivi in ritardo, io è un'ora che sono qua, E va bene, stamattina mi sono alzato alle 6, un signore si alzava alle 5 e veniva In ogni caso, ragazzi, una cosa molto importante, la zona La 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.